Ha fatto centro la cena in bianco sotto le stelle, l'evento benefico che l'associazione Essere Vigolzone ha organizzato all'agriturismo Lattosa. Un'iniziativa, la seconda da quando l'associazione vigolzonese si è costituita un anno fa, sempre con un nobile scopo, quello di raccogliere fondi per realtà che operano a favore dei più deboli. Il ricavato della serata, circa 2000 euro, è infatti stato devoluto all'ospis la casa di Iris di Piacenza. 230 i partecipanti alla riuscitissima cena. Anche questa volta la risposta dei cittadini è stata molto numerosa e questo per noi è gratificante in quanto significa che il lavoro svolto dalla casa di Iris è riconosciuto e trova riscontro in questi eventi. La cosa importante è che i fonti che verranno raccolti questa sera concorreranno al pagamento del canone che l'associazione insieme per l'ospis deve al gestore pari a 250 mila euro annui. Tra gli ospiti anche il sindaco di Vigolzone Francesco Rolleri, il primo cittadino di Piacenza Patrizia Barbieri e l'onorevole di Forza Italia Galeazzo Bignami. L'associazione Essere Vigolzone, dopo i successi delle prime due iniziative, guarda già alle prossime. Ci stiamo volgendo, stiamo volgendo la nostra attenzione verso le nuove povertà, ovvero tutte quelle persone che al momento sono considerate trasparenti agli occhi delle amministrazioni.